È stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila un sequestro conservativo per un importo di 121.000 euro, emesso su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti del Capoluogo dalla sezione giurisdizionale per l'Abruzzo. Il sequestro patrimoniale trae origine da un'indagine svolta dai finanzieri, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, finalizzata ad accertare presunte condotte fraudolente connesse all'erogazione di fondi nazionali destinati alla formazione professionale. L'investigazione di Polizia Giudiziaria era diretta ad accertare in particolare il regolare impiego del contributo percepito dalla Confartigianato, imprese della provincia dell'Aquila, che nel 2011 aveva ottenuto dei finanziamenti pari a 205.000 euro per l'erogazione di alcuni corsi di formazione professionali finanziati dalla Confartigianato di Roma nell'ambito del progetto denominato Formazione a favore delle imprese e dei lavoratori aquilani colpiti dal sisma del 6 aprile del 2009. Le indagini di Polizia Giudiziaria sviluppatesi attraverso complesse analisi documentali e l'assunzione di testimonianze da parte dei docenti, amministratori e dipendenti di aziende coinvolte nella realizzazione dei corsi di formazione hanno permesso di raccogliere numerosi e gravi indizi di responsabilità nei confronti degli amministratori protempore di Confartigianato l'Aquila. Questi, al fine di rendicontare parte delle spese sostenute per le attività formative, predisponevano alcune note riferibili alle prestazioni di docenza e tutoraggio che di fatto non erano mai state eseguite o eseguite solo in parte, ovvero ancora svolte, in modo difforme da quello rendicontato. Al termine delle indagini sono stati pertanto deferiti alla locale autorità giudiziaria il legale rappresentante, unitamente all'amministratore delegato della Confartigianato di L'Aquila, resisi responsabili del reato di truffa e danni dello Stato. La Procura regionale della Corte dei Conti ha poi ritenuto le condotte contestate agli indagati generatrici di danno erariale e ha messo così il provvedimento di sequestro conservativo notificato dai finanzieri in questi giorni finalizzato a garantire il ristoro patito dallo Stato in conseguenza della truffa accertata.